Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Oggi parliamo del reddito di cittadinanza, una misura di contrasto all'esclusione sociale e dell'inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini che fanno parte di famiglie in difficoltà, introdotto dal Decreto Legge 4 del 2019 e quindi in vigore dal 29 gennaio. Durante le prossime puntate vedremo i vari aspetti del reddito di cittadinanza, ovviamente siamo disponibili a rispondere a qualunque domanda che vorrete inviarci e iniziamo a vedere quali sono i destinatari. In prima battuta abbiamo dei requisiti di cittadinanza, ovvero devono essere cittadini italiani e dell'Unione Europea, oppure stranieri purché lungosoggiornanti o titolari del diritto di soggiorno, soggiorno permanente o semplicemente familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea. Pensate ad esempio alla moglie Giappone di un cittadino italiano. Queste persone devono essere residenti in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda e gli ultimi due deve esserci una residenza in modo continuativo. Vediamo gli ulteriori requisiti. Abbiamo detto si tratta di famiglie in difficoltà, sono stati stabiliti alcuni limiti entro cui si ha diritto al reddito di cittadinanza. Intanto l'Isee, che è l'indicatore economico riferito al nucleo familiare, che bisogna presentare appositamente, se non si è già presentato, per poter accedere al reddito di cittadinanza, deve essere inferiore a 9.360 Euro. Il patrimonio immobiliare ad esclusione della prima casa deve avere un valore annuo fino a 30.000 Euro. Invece vediamo gli altri requisiti di carattere finanziario, l'aspetto finanziario è differenziato a seconda della composizione del nucleo, ovviamente, perché mentre per un single è fino a un massimo di 6.000 Euro, per una famiglia un nucleo di 3 persone diventa 10.000 Euro, che viene accresciuto di ulteriori 1.000 Euro per ogni figlio successivo al secondo e 5.000 per ogni componente con disabilità. Quindi per sapere qual è il massimo del patrimonio finanziario della famiglia bisogna appunto comporre il nucleo ai fini sé e questo ci darà qual è il limite di patrimonio finanziario necessario per poter accedere al reddito di cittadinanza. Vediamo come si compone questo strumento di sostegno. Abbiamo detto, cosa importante da sottolineare, che non è un mero strumento di sostegno ma è accompagnato a misure di inserimento lavorativo, che vedremo in un'altra puntata. Per adesso diciamo che il beneficio prevede due componenti, una interruzione del reddito familiare fino alle soglia di 6.000 Euro per un single, entro alla soglia di 12.600 in base, come abbiamo visto, alla composizione del nucleo familiare per quelli che sono appunto delle famiglie. La seconda quota invece è pari all'ammontare del cano di locazione annuo fino a un massimo di 3.360 Euro annui, quindi solo le famiglie che non sono titolari di prima casa e quindi hanno una casa in affitto, possono avere questa seconda indigrazione. Per capire qual è l'importo possiamo dire che non potrà essere inferiore ai 480 Euro. Ripeto, inviateci quei siti in modo tale che potremo affrontare anche le singole situazioni di dubbio e nelle prossime puntate continueremo a vedere quali sono gli aspetti del reddito di cittadinanza. Grazie e alle prossime puntate.